RIP RIP EROTTI Uuuuh Finalmente ragazzi è arrivata anche la mia ora Ve l'avevo detto, l'avevamo già preordinata Tutti i suoi oggettini carini Li abbiamo tutti qua Adesso uno ad uno li andremo ad unboxare e a provare direttamente in game Prima di iniziare però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando vi ricordo di controllare che in basso a destra ci sia scritto Supporta un creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice creatore scade Quindi che stiate supportando me o qualsiasi altro creatore di contenuti Mi raccomando controllate perché è fondamentale per supportarci Ribadisco anche se non volete supportare me Controllate che ci sia scritto un codice creatore Così almeno supportiamo qualcuno Se volete supportare a me appunto il mio codice creatore è GGYT Tutto grande, tutto attaccato Grazie davvero di cuore ancora per il supporto Lasciando un bel mi piace per questa fantastica Playstation 5 Ho anche messo la skin speciale della Playstation 4 Pro Che era uscita proprio in collaborazione con Fortnite Io a queste cose ci sto sempre particolarmente attento Con i feels e queste cose così Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Road to 400.000 iscritti Quindi mi raccomando controllate di essere iscritti Se non lo siete, iscrivetevi E sul primo canale siamo ancora a Road 1 milione Quindi se ancora non siete iscritti anche sul primo canale C'è il link in descrizione Vi ricordo che qui su YouTube ho due canali Detto questo andiamo a prendere gli oggettini Ok ragazzi allora l'hack di camera Che probabilmente ci servirà per diversi giochi O per diverse cose Ho letto anche un po' le statistiche Sembra davvero molto molto interessante Magari questa la andremo ad unboxare In altre situazioni ragazzi Perché in questo momento è abbastanza inutile Non credo che per Fortnite ci serva Per qualche motivo in particolare Stesso discorso ragazzi per il telecomandino Io ho preso un po' di tutto ragazzi Tutti gli oggetti li ho presi anche se magari non li utilizzerò mai Però per adesso li ho presi perché sicuramente prima o poi mi torneranno utili Anche perché comunque con la Play ormai ci si può fare di tutto Già con la Play 4 Pro si poteva fare di tutto Ma anche con quella normale se non sbaglio Adesso ci hanno fatto proprio il telecomando Proprio tutto per farci proprio tutto 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 Ma adesso passiamo alla roba che andrò ad aprire Infatti ragazzi oggi apriremo sia le cuffie Perché comunque le ho prese Le volevo troppo provare Vi giuro ero troppo troppo curioso di provarle Ma soprattutto signori Quello che stavamo aspettando tutti Il DualSense Ragazzi adesso queste due cose le andremo a spacchettare e a provare Ma ovviamente manca il pezzo pregiato La PlayStation 5 La vado a prendere Scherzavo non mi è ancora arrivata ragazzi No infatti come avete detto dal titolo e visto la mia tour Oggi proveremo giusto le cuffie e il controller La Play 5 doveva arrivarmi il 19 Quindi la data d'uscita E invece è stata rimandata E dovrebbe arrivarmi il lunedì ragazzi F per me F in chat per me Speriamo si sbrighino Speriamo che sia effettivamente così Almeno già da prossima settimana posso portarvi alcuni contenuti Come in mente sulla PlayStation 5 E quindi andiamo ad unboxare il DualSense e le cuffie Che sono le uniche due cose come vi dicevo prima E possiamo provare Ragazzi sono davvero curioso di provare il DualSense Perché tutti quelli che l'hanno provato Ho visto e sono rimasti abbastanza sorpresi E sono sicuro al 100% dalle loro reazioni Che finché non lo provi non puoi capire effettivamente che cosa si prova appunto Dunque la scatola vi dico mi piace un sacco questo nuovo design della PlayStation 5 Lo adoro Ok ragazzi allora Scatola aperta Ok Ho rotto un po' troppo la scatola Infatti è tutto sporco il pad Ma va bene Che poi in realtà ormai bisognerebbe chiamarlo DualSense Questo non è un pad o un controller È il DualSense Pesuccia eh Pesa 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 Non mi aspettavo pesasse così tanto E la presa è davvero particolare Cioè lo senti proprio che lo avvolgi con tutta la mano È una sensazione particolare effettivamente Perché tu lo senti che lo avvolgi completamente Non ha ovviamente i due paletti dietro Le due palette dietro con cui sono abituato Quindi oggi faremo schifo Quindi preparatevi Non ve lo sto neanche qui a far vedere più di tanto Infatti ragazzi non ho neanche fatto il classico unboxing Che ho fatto per esempio con l'Xbox Perché tanto ne avrete già visti chissà quanti Quindi più che altro oggi voglio concentrarmi poi sul gameplay E dopo ovviamente lo andremo a provare Ma adesso apriamo prima anche le cuffie Che poi ragazzi la sapete qual è la cosa bellissima di questo video? È che io non so se le cuffie e il controller li posso utilizzare per il PC Madonna ragazzi il packaging è esagerato Cioè ci sono 3 miliardi di... Meno male non erano le cuffie Eccole qui Cioè ci sono... Non potete capire Cioè hanno un po' esagerato secondo me Allora ovviamente adesso non sono attaccato al filo Per farle funzionare al PC penso che le attaccherò col cavo Anche se comunque il mio PC ha il sensore Bluetooth Ha per il Bluetooth però Io le cuffie di solito le preferisco proprio col cavo Ok? Vediamo se col cappello... Uuuuh... Comode! E c'ho anche le cuffiette sotto eh Provo un attimino a togliermi le cuffiette Molto belle ragazzi Sono anche molto molto comode Ci stanno un sacco Ora bisogna solo vedere se funziona per il PC Un piccolo dettaglio Tra l'altro ragazzi nel pack del DualSense non c'era il cavo E questo potrebbe essere un problema ragazzi Perché adesso devo vedere se ho un cavo per attaccarlo al PC No regà top! Le ho attaccate con la chiavetta Perché dentro il pacco oltre a dei cavi c'è anche una chiavetta per il Bluetooth L'ho attaccata al PC e io già sento Top ragazzi! Quindi io adesso questo cavo lo posso utilizzare per il DualSense Regà stonks Ah che poi quindi abbiamo anche visto che funziona Quindi doppio stonks Omega stonks proprio L'unica cosa non stonks regà E che purtroppo appunto non abbiamo le palette dietro come sono abituato a giocare Vediamo un po' Dimmi che fungi Dimmi che funzioni Per adesso non lo sto vedendo funzionare Non mi dire che non sei plug and play Perché non mi sembra una cosa corretta Ok adesso vi starete chiedendo che cosa stiamo facendo su Fall Guys È più di un'ora che io sto tentando di collegare questo maledettissimo controller Questo maledettissimo DualSense Ho visto almeno 6-7 tutorial e ho seguito passo passo tutto quello che mi hanno spiegato Sono riuscito a farlo funzionare Sono riuscito a collegarlo su PC Infatti come vedete questo è il risultato Su Fall Guys funziona Ma su Fortnite evidentemente non è compatibile La cosa strana è che uno dei tutorial Me l'ha spiegato Che praticamente non è ancora compatibile su PC per Fortnite Però ha fatto un metodo Ha utilizzato un metodo Per cui lui è riuscito poi a utilizzarlo su Fortnite In breve questo metodo consisteva nell'avviare Fortnite tramite Steam Perché praticamente l'ho configurato tramite Steam Il negozio online per i giochi su PC bla 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 Niente ho fatto passo passo quello che ha fatto lui A lui funziona A me no E sta cosa non l'ho capita Dopo un'ora e mezza di ricerche e altre prove Non ci sono riuscito E sapete che vi dico Questo qua lo andiamo a provare direttamente con la Play 5 Sperando che mi arrivi direttamente oggi E quindi lo andremo a provare nei prossimi giorni Raga per forza Non so che dirvi Quindi oggi andremo a provare le nuove cuffie Ovviamente non su Fall Guys Perché Fall Guys lo portavo sul primo canale E quindi adesso torniamo su Fortnite Ovviamente però ragazzi le cuffie le proviamo Diciamo che alla fine è diventato un video in cui provo le cuffie Vi dico la verità Questo video l'avevo programmato per provare solo il DualSense Alla fine è finito che abbiamo provato solo le cuffie RIP Però vi dico Molto molto buone Molto molto buone Sono davvero molto comode tra l'altro E se lo dico io che coi cuffioni Mi ci trovo davvero male Lo sapete ragazzi Io gioco sempre con le cuffiette Perché i cuffioni li odio Per dirlo io Tanta roba Ho in questo momento un odio profondo per il DualSense Però mi sta facendo riprendere la situazione queste cuffiette Cuffi anzi Ormai sono abituato a dire cuffiette Allora non so perché Ma sento il feeling col pad diversa E sto col mio solito pad Quindi non ho scuse E in questi giorni ci sono state svariate patch Quindi non vorrei che abbiano toccato qualcosina Però vi giuro che già dai primi movimenti Sento il feeling diverso Però non abbiano toccato nulla Perché già un mese fa ho dovuto cambiare le sense Perché era cambiato qualcosa Non me le fate cambiare ogni mese ormai Quanto vi fa strano da 1 a 10 Vedermi con le cuffie regà Scrivetemelo sotto nei commenti Ok Sì bro Gli ho tolto 98 tra l'altro Non so se ci avete fatto caso Cioè è proprio giusto per lasciarlo con due di vita Allora c'è uno qua dentro Stiamo attenti C'ha tra l'altro le cura bomba Ah sta proprio sul tetto Ok Ok Perfetto No comunque non c'è la cura bomba Perché ho sentito la cura bomba? Mi sa che erano gli scildini Vabbò raga Comunque Degli scudi erano Ok raga C'è uno qua dentro Dobbiamo stare attenti Perché forse sta Ai piani alti Ai piani alti Il chicco qui Che vuoi fare? Eh bro Dove sei? Dove sei? Oh lo sentivo qui No aspettate allora mi vado a prendere Sicuramente Le impulsette qui Però qui adesso rimane l'arcano con questo qui Ma dov'è? Vedete pure i passi che mi segna? Qui dentro? Siete qui dentro? È qui la festa? È qui la festa! È qui la festa ragazzi È qui la festa Allora questo qui l'abbiamo messo one shot Dove sei andato? No! Dove? Dove è morto? Ah raga ve lo dico io che cosa è successo Ve lo dico Eccolo Ve te lo dico io che cosa è successo Tra l'altro mitraglietta dorata Ve lo dico io che è successo raga Questo praticamente era scappato con il jetpack Poi a un certo punto evidentemente gli è finita la carica Ed è caduto Ed è morto di caduta E ovviamente ha dato la kill a me Perché l'ultimo l'aveva hittato Ovviamente sono stato io Comunque detto questo raga Mi tengo la... Uh Dove è andato? Uh di qua di qua No firmi materiali raga Pensate averne molti di più Pensate averne molti molti di più raga Rip Riperotti Uh Ma qui mi stanno portando tutte delle armi incredibili Gustoso questo bel pompa viola Siamo anche in safe raga Devo dire che queste cuffie Mi hanno reso un pro player Se solo avessi potuto utilizzare anche il DualSense Sarei stato molto più contento Ok raga Uno lì C'era uno lì Va bene Senza scudo Stava provando a pusharmi In maniera molto tranquilla Non l'ho capito Ma probabilmente era un bot E... Oh my god Che è? Chi va là? Chi va là? Eh? Uh 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 Stia fermo signor Thor Si faccia vedere Si identifichi signor Thor Che cosa sta facendo lì così? No raga Cioè Che eh Cioè ma qui Stiamo rasentando il ridicolo Stiamo rasentando il ridicolo qui ragazzi Cioè signor Thor Lei che fa? Viene così nella mia città E non chiede neanche permesso Viene tutto bello prepotente Dov'è? Dov'è lei signor Thor? Ok la sento La sento signor Thor Ma signor Thor Lei è sempre più Una persona Indisciplinata Cioè che cosa è appena successo Boys Ok Vediamo se scende Vediamo se scende E lo freghiamo Vediamo se lo freghiamo Con l'astuzia Continua a stare sopra di me Dov'è? Dove sarà mai? Non l'ho capito Va bene Nel dubbio ragazzi Io faccio così e così E me ne vado Perché almeno riesco a curarmi Boys Ma non ho capito dove è andato sto Thor Cioè lui mi ha ittato E' venuto nella mia città Ci ha dato fastidio No Ma che cazzo Ma che cazzo Ma 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 da dove cavolo è uscito fuori? Da dove cavolo è uscito fuori ragazzi? Col jetpack così Ma non si fa Ok si sta sparando un qualcun altro Noi abbiamo usato le impulsi ragazzi Purtroppo Le abbiamo sprecate Però almeno riusciamo a fullarci Allora la safe è qui vicina E questi si stanno continuando a sparare lì Ecco il Thor là sopra E uno l'ha pushato da sotto Vabbè a questo punto direi che possiamo andare ragazzi O la va o la spacca Ok uno si sta curando Uh Uno ha ucciso qualcun altro E da laggiù mi stanno sparando Però io ho sentito questo qua Entrare qua No 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 Ma a dove? A me? Ma cioè regà ma la gente riesce a spararmi prima che mi Ma da dove? Ma che cosa sta succedendo? Beh che cosa è successo? Cioè questo mi ha fatto fuori con la fiocina Non ho fatto in tempo a sparare con il pompa E mi ha fatto fuori con la fiocina È la prima volta che mi succede una cosa del genere Tre colpi di fiocina per farmi fuori ragazzi Ma di che stiamo parlando? Tre colpi di fiocina per farmi fuori Ma what? Ci ho provato col pompa Regà ma ormai non l'ho fatto in tempo Perché ero lì a lutare sinceramente quel cadavere E non avevo minimamente visto quest'altro Vabbè comunque Cuffie strapromosse ragazzi Cuffie devo dire davvero stra strapromosse Mi sono piaciute tantissimo Non credo di passare alle cuffie Continuerò a giocare con le mie amate cuffiette Però devo dire oneste Il DualSense l'ho odiato tantissimo Spero di ricominciare ad amarlo con la Play 5 Spero che mi arrivi il prima possibile Niente ragazzi Fatemi sapere la vostra sotto in un commento Vi ricordo di supportarmi con il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetti Di Fortnite ovviamente Lasciandomi al mi piace Arrivano almeno a 10.000 like Ma soprattutto iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Per me è tutto Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi